5, 4, 3, 2, 1, vai, 50 destra a 4, in sinistra a 4, in accenno a destra, 40 vista per sinistra a 4, in destra a 4, 2 tempi, chiude il secondo, chiude il secondo, per sinistra 3 più, in destra 3 meno lunga, gira, in accenno a sinistra il doppio, ritarda diventa a destra, 3 chiude, 3 chiude, in sinistra a 4, vai, 40 su ponte, 50 sconnessi, per sinistra a 4 più lunga, 30, destra a 4 più sale, 20, destra a 5 meno lunga, diventa accenno a destra, 70, accenno a destra, frena per sinistra, 3 su ponte, destra frena per sinistra, 3 su ponte, in destra a 2, gira, in sinistra 5 lunga, 70, accenno a sinistra, 30, dopo ponte, sinistra a 3, per accenno a destra, per accenno a sinistra, diventa a 4, in sinistra a 4, in destra a 3, diventa a 2, in accenno a sinistra, lungo sconnesso, 40, sinistra a 2, gira, 2 gira, per destra a 4, 30, sinistra in destra a 90, per sinistra, attenzione destra a 90, in sinistra a 90, 30 a destra e vai, in accenno a sinistra, per destra a 4, lunga lunga, tieni, chiuda la rete, tieni, chiuda la rete, 100, ai accenno a sinistra a 4, vai, 50, attenzione destra a 3, in sinistra a 3, in destra a 4, 40, sinistra a 3, 60, destra a 4, tieni lunga, 4 tieni lunga eh, in sinistra a 3, e doppia chiude, per destra a 3, lunga, in sinistra a 4, in destra a 4, in attenzione ritarda a sinistra a 3, su ponte, accenno a destra a 40, sinistra a 3, vai, 30 sconnessi, per destra a 4, al rosso diventa a 3, 40, accenno a destra a 70, a vista, al cartello a sinistra a 4, per destra a 4, sconnessa, per destra a 4, in sinistra a 4, per destra, e sinistra chiude, e destra, per sinistra a 3, destra a 4, tieni lunga, per accenno a sinistra, stacca.